21.03.2019 Silvana Palazzo Stefania Pezzopane e Simone Coccia con l'aiuta Domenica Live La primavera si apre per Stefania Pezzopane e Simone Coccia con l'aiuta con una ventata di verità e giustizia È la deputata a parlarne in questi termini sui social. Lo ha fatto pubblicando la notizia della soluzione del compagno dall'accusa di tentata truffa Ci mettiamo alle spalle una vicenda assurda creata senza fondamento, solo per farci del male Spero provino vergogna a tutti quelli che hanno agito contro e che ha usato questa vicenda per colpire Simone e me Il commento di Stefania Pezzopane su Instagram in merito alla sentenza Il PM Ilaria Prezzo aveva chiesto nove mesi di carcere per l'ex concorrente del grande fratello e per l'altro imputato, Ivan e Giampietro Da innocente sono stato sbattuto in prima pagina, massacrato sui social, insultato senza ritegno Sono felice, ho sempre avuto fiducia nella magistratura, ha dichiarato Simone Coccia con l'aiuta al centro Il caso è nato dalla pubblicazione degli atti su una presunta estorsione ai danni della deputata e dell'ex presidente della regione Gianni Chiodi Simone Coccia con l'aiuta, tentata truffa, ha solto il denunciante, Alessandro Maiorano, riteneva di essere stato raggirato Nella denuncia, di cui ha parlato il centro, era scritto che, il manager di Coccia con l'aiuta in una telefonata del 2014 fece balenare allo stesso l'idea di sfruttare la mossa attuata dal sottoscritto Una denuncia, per spillargli denaro basando il ricatto sulla violazione della privacy posta in essere con la comunicazione a Giampietro Nella denuncia si parla di una proposta a procedere con la stipula di un contratto, per il quale Coccia con l'aiuta avrebbe dovuto fare da testimonial del sito dell'agenzia di Giampietro per 20.000 euro L'accusa sosteneva che si doveva far credere dell'originaria esistenza di quel contratto e della rescissione da parte del manager per la notizia della denuncia da parte di Maiorano contro l'ex spogliarellista Aquilano Giampietro avrebbe proposto di preparare il contratto e Coccia con l'aiuta lo avrebbe invitato a sentire il suo avvocato a cui la situazione sarebbe dovuta apparire come reale Prevedeva l'ingaggio di un testimone alla stipula del contratto Il processo si è chiuso invece con l'assoluzione degli imputati Diritti d'autore riproduzione riservata Grazie a tutti Grazie a tutti.